Da tempo la caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stata giudicata come obsoleta, inadeguata e onerosa. Gli ultimi siti che erano stati proposti come sede alternativa dal Comune di Pesaro erano stati individuati in prossimità degli interquartieri o del futuro casello di Santa Veneranda. Luoghi però risultati non idonei dal sopralluogo ministeriale di sei mesi fa. Ora, dallo stesso Ministero dell'Interno, sono arrivati quei fondi utili perlomeno ad intervenire sui punti più critici della caserma attuale, come ricordato dal deputato Antonio Baldelli. Ho presentato una intervazione per sottolineare lo stato della caserma del Comando Provinciale dei nostri Vigili del Fuoco perché oggi è una caserma obsoleta e inadeguata. Si sta lavorando per individuare un nuovo sito anche perché il sito indicato dall'amministrazione comunale non era idoneo. Nel frattempo ho sollecitato l'intervento della società immobiliare che è proprietaria dell'edificio del Comando affinché facesse almeno quegli interventi di manutenzione straordinaria che i nostri Vigili del Fuoco stanno attendendo da troppo tempo. Queste opere, questi lavori di manutenzione sono iniziati proprio in questi giorni con il rifacimento delle coperture e quindi la loro impermeabilizzazione anche perché l'edificio era oggetto di infiltrazione anche copiose e anche per il rifacimento dell'impianto di condizionamento superiore per una migliore qualità della vita e del lavoro e del luogo del lavoro dei nostri Vigili del Fuoco. Grazie a tutti.